Coronavirus. Se da un lato i contagi restano contenuti, dall'altro le terapie intensive subiscono un'improvvisa impennata, ancora ad eccessi in provincia. Molteplici alias, spilta di precedenti e un ordine di espulsione, criminale incallito arrestato a Rimini e rimessi in libertà in attesa del processo. Un sottopasso sull'asse di via Roma-Rimini all'altezza del Settebello per eliminare l'attuale attraversamento pedonale, il comune valuta la fattibilità. Tornano in presenta gli incontri della scuola di storia della medicina di Rimini, sabato il ricordo di Ugo Gobbi, il pediatra dei riminesi. Buonasera e bentrovate all'edizione serale di Carottigine. Apertura ancora una volta il coronavirus. Anche oggi ci sono purtroppo dei decessi in provincia di Rimini, in una situazione ancora intricata per quanto riguarda il contagio. I numeri dei nuovi casi restano a livelli contenuti, ma oggi in regione c'è un'improvvisa impennata delle terapie intensive, il servizio. In provincia di Rimini oggi si registrano purtroppo altri due decessi sugli 11 in Emilia-Romagna. Si tratta di una donna di 90 anni di cattolica e un uomo di 94 anni di Rimini. Il contagio continua a registrare dati contrastanti tra un giorno e l'altro, dai quali è anche difficile individuare dei trend. I nuovi casi in provincia risalgono dai 187 di ieri ai 220 di oggi, ma vengono finalmente superati dalle guarigioni 222. In Romagna è sempre in testa Ravenna con 273 casi. In regione i nuovi contagi sono 3.103, quasi 200 in meno di ieri su 27.259 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul totale dei test, dopo diversi giorni ben oltre il 20%, scende all'11,4%. Sul fronte dei ricoveri oggi fa notizia l'impennata delle terapie intensive che dopo essere scese al minimo di 27. Oggi sono 38, 11 in più. A Rimini salgono da 4 a 5. In calo invece i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, che sono 1.206 rispetto a ieri, 33 in meno. Le nuove guarigioni sono 2.802. I casi attivi salgono a 54.197 rispetto a ieri, 290 in più. In due mesi e mezzo di attivazione del servizio di autotesting, i tamponi caricati sul fascicolo sanitario elettronico in Emilia Romagna sono quasi 70.000. Per il 53,8% riguardano comunicazioni di nuove positività. Per il 46,2% si tratta di tamponi con esito negativo per la fine quarantena. Ora la cronaca giudiziaria. Un criminale incallito, arrestato per l'ennesima volta a Rimini, è comparso questa mattina in tribunale per essere processato. Ma il giurice, almeno per il momento, è stato costretto a rimetterlo in libertà. Vediamo. Ieri pomeriggio era stato inseguito per un presunto furto compiuto all'interno di un camion in sosta in via Dardanelli a Rimini e poco dopo arrestato dagli agenti delle volanti per false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità. Questa mattina, invece, è comparso in tribunale per essere processato. Il giudice, però, già gravato dai numerosi processi in calendario, si è visto costretto a rinviare l'udienza al 22 maggio prossimo e, nel frattempo, gli ha inflitto il divieto di dimora nella provincia di Rimini. Divieto che l'imputato aveva già a sua carica al momento dell'arresto. Chissà se tra un mese e mezzo si presenterà davvero per farsi giudicare questo marocchino di 38 anni con all'attivo molteplici alias, almeno 5-6 pagine di precedenti, e già gravato da diversi provvedimenti di espulsione. Questa volta il criminale incallito è finito nei guai per il presunto furto di un portafoglio e due carnet di assegni, presunto perché il riminese che ha inseguito il marocchino dai via destra del porto fino alla chiesa di San Nicolò, al momento dell'arresto da parte della polizia non è stato in grado di riconoscerlo al 100%. Una volta condotti in questura, ci è voluto il fotosegnalamento per risalire alla sua vera identità e scoprire che aveva a proprio carico una sfilza di precedenti niente male, alcuni dei quali commessi proprio a Rimini. Porto di armi ed oggetti atti ad offendere, furto con destrezza, resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali e rapina impropria, solo per citarne alcuni. Quando questa mattina il 38enne marocchino è comparso in tribunale, sembrava tutto fuorché preoccupato. Il divieto di dimora in provincia di Rimini, in attesa di essere processato, deve essergli sembrato l'ennesimo dribbling riuscita alla giustizia. Voltiamo pagina. L'amministrazione comunale di Rimini sta valutando la possibilità di realizzare un sottopasso sull'asse di Via Roma all'altezza del Settebello, un'infrastruttura che consentirebbe di eliminare l'attuale attraversamento pedonale a raso e migliorare così la circolazione. Lo fa sapere l'assessore alla mobilità Roberta Frisoni nel contesto dei lavori per lo sfondamento della stazione di Rimini. L'intervento, partito lo scorso gennaio per superare la storica frattura riminese, è inserito nel protocollo d'intesa tra il Comune di Rimini, Rete Ferroviaria Italiana, FS Sistemi Urbani e Regione Emilia-Romagna. Voltiamo pagina. Una cucina da campo donata dall'Emilia-Romagna in viaggio verso la Polonia. Fornirà 500 pasti al giorno ai profughi che fugono dalla guerra in Ucraina. Vediamo. E partita da Bologna, diretta a Cracovia, in Polonia, la cucina da campo donata dall'Emilia-Romagna. Da lì si muoverà poi verso il confine con l'Ucraina per essere impiegata nell'assistenza ai profughi in fuga dalla guerra. Ad accompagnarla un convoglio di sei mezzi e una delegazione della protezione civile Emiliano-Romagnola con due funzionari e dieci volontari che aiuteranno nell'installazione della cucina. In viaggio anche abbondanti provviste alimentari, offerte da varie ditte del territorio, 15 pallet di pasta e biscotti donati da Barilla, 400 kg di formaggio dal Consorzio del Parmigiano-Reggiano, 300 litri di latte Parmalat. È importante riuscire a consentire alla popolazione che è ancora nei paesi al confine di poter avere anche la speranza di tornare a casa. Noi dalle varie testimonianze che abbiamo sappiamo che gli ucraini e i profughi vogliono tornare a casa e quindi anche il supporto in paesi come la Polonia che stanno accogliendo tantissimo è fondamentale. Il Dipartimento Nazionale ci ha chiesto di far partire questa cucina da campo che metterà a disposizione 500 pasti diciamo al giorno. Quindi è una cosa molto importante. Devo ringraziare anche le aziende di Food che ci hanno prestato e donato il materiale, il cibo insomma da portare. Per noi fa parte della nostra storia. Nel nostro DNA c'è la solidarietà e c'è la capacità del sistema di protezione civile di essere disponibile in emergenza. Riprendono a Rimini gli incontri in presenza promossi dalla Scuola di Storia della Medicina dell'Ordine dei Medici. Sabato dalle 9 alla Sala del Giudizio del Museo della Città si parlerà di Ugo Gobbi, storico pediatra riminese scomparso dieci anni fa e della storia della pediatria romagnola. Vediamo. Innovatore, personaggio poliedrico, polemico quando era il caso ma anche empatico con pazienti e famiglie. Il professor Ugo Gobbi è stato a Rimini primario e direttore sanitario dell'ospedalino infantile dell'aiuto materno dal 52 al 74 quando si decise di sviluppare la pediatria ospedaliera degli infermi. Di lui parleranno Gina Ancora, direttore della terapia intensiva neonatale di Rimini, il pediatra Cesenate Giancarlo Cerasoli, Beatrice Sica, nipote di Gobbi e docente a Londra e Valentina Mazzotti del Museo delle Ceramiche di Faenza. Gobbi fu infatti collezionista e studioso di maioliche. Lo ricordiamo in quest'anno perché sono passati cento anni dalla sua nascita e dieci anni dalla sua morte. È un'occasione, una ricorrenza per poter mettere al centro questa figura che è stata fondamentale per la pediatria romagnola e quella riminese. In questi due anni abbiamo imparato molto ad utilizzare la tecnologia, a usare le videoconferenze, a fare i seminari online, però è fondamentale quando si fa questo tipo di iniziative appunto storico e storico-medica e avere un confronto diretto. E devo dire che l'adesione per il convegno di sabato è stata veramente entusiastica. So che verranno ex colleghi di Gobbi o persone che hanno collaborato con lui proprio anche solo per partecipare e per ricordare con una piccola testimonianza la grande figura del professor Ugo Gobbi. Questa sera alle 20.40 su Icaro TV, canale 18, a tutta salute, si parla del trentennale del 118 nella puntata dal titolo 1992-2022, 30 anni di 118, 30 anni di vite salvate. In studio con la giornalista Lucia Renati ci saranno la dottoressa Silvia Marzaloni, medico responsabile struttura semplice emergenza territoriale 118 di Rimini e Riccardo Franchini, coordinatore infermieristico del 118. Vediamo un'anticipazione della puntata. È un sistema dinamico che cambia, cambia a cambiare delle linee guida, a cambiare della tecnologia e quindi che continuiamo a progredire adattandoci in positivo a quello che succederà. che la professionalità di tutti gli operatori sanitari e non venga riconosciuta, noi abbiamo il vantaggio di avere in ogni mezzo un professionista sanitario, quindi il valore, le competenze devono, è giusto che vengano riconosciute, quindi stiamo lavorando anche in questo senso e speriamo di, fra dieci anni, di festeggiare i 40 anni. Ma anche i 50, i 60, i 70, gli 80, anche i più, altri 1300 di questi anni. L'augurio suo, Franchini? L'augurio mio è che il 118, come dice la dottoressa Marzaloni, possa crescere e sono convinto che lo possa fare perché, ripeto, uno dei punti di forza, credo, del nostro sistema in questo momento sia che è strutturato su persone innanzitutto dipendenti e quindi persone che fanno questo per lavoro e cercano di farlo al meglio. L'azienda dà la possibilità di farlo appunto con cicli di formazione continua, medici e infermieri, autisti e soccorritori che ogni giorno promuovono appunto la loro professionalità verso il cittadino. L'augurio che questo avvenga, lo faccio in maniera particolare alla cittadinanza perché è giusto che nel momento in cui uno abbia bisogno debba avere la migliore risposta nel minor tempo possibile. Credo che noi in questi anni abbiamo creato già un sistema che sarà sicuramente da migliorare e da crescere, ma questo avverrà, mio avviso. In chiusura il calcio, il portiere del Rimini, Cristian Mariette, è stato ospite ieri sera di Calcio.Basket, il numero uno bianco-rosso, in prestito dall'Alessandria, ha parlato del suo record di imbattibilità, il quinto di sempre nella storia del Rimini, delle tre vittorie in una settimana e del big match di domenica prossima al Benelli di Ravenna. Sentiamolo. Il rigore che è stato trasformato da Michelotto al 46esimo del primo tempo del match di mercoledì scorso con la Ianese ha interrotto la tua imbattibilità che è arrivata a 649 minuti e sei il quinto bianco-rosso di sempre. Che effetto ti fa? Sicuramente è una bella soddisfazione, però sinceramente non ci guardavo neanche perché l'importante era comunque vincere e portare a casa i tre punti tutte le partite. Dispiace da un lato perché poi è arrivato sul rigore che secondo me era anche abbastanza dubbio, però non importa, è importante che sia riuscito a vincere sia mercoledì che domenica, quindi questo è l'importante. Era importante in queste partite che precedevano appunto la sfida di domenica, portare a casa sempre i tre punti, una settimana difficile, lunga perché comunque ci aspettavano tre partite contro tre squadre difficili, forse le tre partite ravvicinate più difficili che abbiamo affrontato quest'anno, siamo riusciti a vincerle anche bene secondo me, tranne domenica, abbiamo un po' sofferto alla fine, però ci poteva stare, arrivavamo da otto giorni in cui abbiamo giocato tre partite. Sicuramente abbiamo dato un grosso segnale secondo me, sia a noi stessi perché era importante come gruppo portare a casa sempre il massimo e anche agli altri comunque guardare sempre alla fine delle proprie partite il risultato del Rimini e vedere che vince sempre è una botta al morale sicuramente. Arriviamo a questa partita che diciamo che si deciderà il campionato in un modo, cioè in un modo sicuramente, nell'altro mal che vada Ravenna si riavvicinerà ma rimarrà sempre a cinque punti, invece non lo diciamo troppo forte ma se dovessimo vincere diremmo che abbiamo praticamente chiuso il campionato dai. Qual è il gol in questo campionato che ti è dispiaciuto di più subire? Sicuramente quello con Ravenna all'andata per l'importanza della partita, per la gente che c'era allo stadio, per le aspettative che si avevano da quella partita, sicuramente diciamo che è un po' una macchia sulla stagione dai. La puntata in integrale è disponibile on demand su Icaro Play, intanto oggi la Lega Nazionale dilettante ha deciso di sospendere la giornata del 27 aprile per lasciare spazio ai recuperi facendo slittare di una settimana le ultime quattro giornate di campionato Rimini-Lentigione, quindi ultima gara di Regular Season, si giocherà domenica 22 maggio. È tutto, io vi ricordo al nostro sito di informazione newsrimini.it per rimanere aggiornati su tutte le notizie del territorio e della nostra piattaforma icaroplay.it dove invece potrete rivedere tutti i programmi del gruppo Icaro, compreso il Tg. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di una buona serata.